Ciao a tutti, questa è la mia voce di oggi ed è il motivo che mi impedisce di venire a cantare a Pescara al Kamala Jazz Club. Un concerto annullato, l'imbarazzo degli organizzatori e l'idea in tempi di coronavirus che in fondo possa essere questa la via d'uscita migliore per giustificare l'impasse. Nulla di tutto questo e a gridarlo forte anche con un pizzico di stizza Sergio Caputo, il noto cantatore romano che lo scorso 27 febbraio avrebbe dovuto suonare nell'ambito della rassegna del Kabala al caffè letterario di Pescara. Il forfai improvviso ha costretto gli organizzatori in tempi estremamente limitati a cambiare programma e grazie alla cortese e disponibilità di Germano D'Aurelio a proporre una serata alternativa con la straripante simpatia di Induccio, spiegando soprattutto ai tanti fan abruzzesi dell'autore di tantissimi successi, da sabato italiano al Garibaldi innamorato che Caputo avrebbe declinato l'invito causa coronavirus. Le notizie viaggiano veloci, specie attraverso il web. E così Sergio Caputo viene a conoscenza di una realtà completamente diversa da quella che si immaginava. Io non ho mai cancellato un concerto a Pescara. Ho chiesto semplicemente un rinvio del concerto per questioni di salute. Io credo che voi siate in possesso dei miei comunicati sui social, su Facebook, su Twitter, sulla mia pagina di Facebook, eccetera, eccetera. Dove c'era, ho fatto anche un filmino dove parlavo perché la gente sentisse effettivamente la mia voce. Questo l'ho fatto quando ho iniziato a sentire circolare dubbi sulla veridicità della cosa. C'è parlato di coronavirus, esatto, io non sarei venuto perché ho paura del coronavirus. Allora io ero appena tornato dall'Italia, da una serie di concerti, quando c'era già il coronavirus. Quindi non era quello il problema. Il coronavirus semmai c'entrava, io qui siccome non ho parlato io con le persone del cabala, può essere venuto fuori per il fatto che se io avessi tentato di prendere un aereo quel giorno con il naso che colava, gli sternuti, una tosse irrefrenabile, gli occhi rossi e l'aria ammalata, probabilmente sarei stato subito segnalato, fermato, bloccato e messo in quarantena. Uno spiacevole equivoco dunque che si potrebbe sintetizzare citando uno dei ritornelli più geniali della musica italiana, Targata Caputo. E a Pescara spero di tornare. Tra l'altro a Pescara io sono stato Francavilla a mare la scorsa estate, cantando e suonando davanti a circa 10-15 mila persone. Non so quanti di voi mi hanno visto e c'erano, però insomma è una zona che a me piace molto, insomma non ho motivi per non venire a Pescara. Sulla fantasia